Gigi Garelli alla presentazione delle liste che supportano Luciano Toselli nella corsa a sindaco per la città di Cugno, ecco la vostra di lista, come pensa di supportare, su quali temi in particolare la candidatura di Luciano Toselli? Noi saremo coerenti e forti nel sostenere la candidatura di Luciano Toselli con i temi e nei temi che abbiamo dimostrato di essere i nostri cavalli di battaglia in questi 5 più 5 anni. In particolare per quanto mi riguarda la mia sensibilità, la mia storia mi porta a sottolineare i temi e i problemi sociali che vuol dire il tema dell'inclusione che va affrontato non solo ed esclusivamente in termini emergenziali come ha fatto questa amministrazione in questi anni, bisogna affrontare il tema dell'inclusione, dei nuovi arrivati, delle persone che lavorano nei campi per darci cibo in maniera strutturale e non in maniera emergenziale. C'è un tema della povertà, c'è il tema dell'abitazione, dell'edilizia sociale, c'è il tema della cultura, c'è il tema dell'ambiente, della mobilità, sono tutte tematiche che in questi 5 anni Cuneo per i beni comuni ha portato avanti da sola e che invece con l'arrivo delle altre due liste, Cuneo mia e Idea Cuneo, potremo davvero affrontare guardando a 360 gradi con le sensibilità e le competenze che tutti stanno dimostrando di portare. Credo che la presentazione di questa sera abbia davvero dimostrato che ci sono tante competenze da mettere in campo, tanta voglia di pensare la Cuneo di domani per dare davvero una svolta, per guardare e costruire una città che sia a misura di persone, partecipata, trasparente e davvero vivibile.